Sistemiamo l'impuotratura Vedo che si fa così Vedo una lucetta rossa Ok Ah, ecco qui Credo che adesso è accesa Questa tecnologia Eh, si dice così? Eh, boh, insomma lei Io non la capirò mai Ok, mi vedo Anche i miei bellissimi baffi Si vedono Ops, ma siamo in onda Oh, quanto mi metto in postazione Eccomi in postazione Ciao bambini Mi presento Sono il nonno di Tony Ma da oggi Diventerò il nonno di tutti voi Inizieremo questa avventura insieme Alla scoperta della storia più bella La Bibbia Mio nipote Ha insistito tanto Per condividere con voi Quello che ogni giorno facciamo insieme Sin da quando lui era un bimbo come voi Leggere la parola di Dio La Bibbia Non so se voi però siete come lui Lui era un bimbo birbantello E voi siete anche dei birbantelli o Dei bravi bambini Perché dovete sapere Che Tony Lo è tuttora Infatti Mi ha lasciato solo qui Alle prese con la nuova Decol Ehm Teccolo Ehm Come si dice Ehm Ah Aspetta Tecno Lo Gia Ah si Tecnologia Ma non mi importa Sono felice di essere qui con voi E imparerò ad usare al meglio questa tecnologia Ehm Vabbè si Avete capito Ehm Come dicevo poco fa Vi racconterò una delle tante storie contenute nella Bibbia E quest'oggi Inizieremo proprio da dove tutto è iniziato Dio crea un mondo stupendo Viviamo in un mondo meraviglioso Date un'occhiata alle cose meravigliose intorno a voi bambini Dai torniamo all'inizio e vediamo cosa ci dice la Bibbia su come tutto è cominciato Nel principio Dio creò i cieli e la terra Dio si rivolse alle tenebre e disse luce Chiamò la luce giorno e le tenebre notte Il primo giorno è stato fatto Poi Dio creò uno spazio per separare le acque di sopra da quelle di sotto Chiamò questo spazio cielo Il secondo giorno è stato fatto Dio raccolse insieme le acque ed apparve la terra asciutta Chiamò l'asciutto terra e le acque mari Poi creò piante come l'erba Il grano e gli alberi Il terzo giorno è stato fatto Quindi Dio creò delle luci nel cielo Fece il sole per il giorno La luna per la notte E tutte le stelle E anche il quarto giorno è stato fatto Dio creò i pesci per nuotare nelle acque E gli uccelli per volare in cielo E gli disse fate figli e riempite il mondo Il quinto giorno è stato fatto Poi Dio creò gli animali Creò animali domestici Animali selvatici E animali che strisciavano sulla terra Solo una cosa è rimasta da fare Disse Dio La più straordinaria di tutte Quindi a sua immagine Dio creò l'uomo e la donna E li chiamò Adamo ed Eva E gli disse fate dei figli Prendetevi cura del mondo Occupatevi dei pesci Degli uccelli E di tutti gli animali E anche il sesto giorno è stato fatto Allora Dio guardò a tutto ciò che aveva creato E disse E' molto buono Così il settimo giorno si riposò E' reso speciale quel giorno E anche il settimo e ultimo giorno E' stato fatto Furono sette giorni così meravigliosi Solo una parola e ogni cosa fu Tutto il creato cantava le sue lodi Per la gloria lassù Monti, mari e ceneri gioite tocca a voi Il Signore è grande e passerà tra voi Stelle, fiumi, fiori e tutta la natura Siate felici perché Dio è meraviglioso Tutto ciò che fa Che è buono Tutto ciò che fa Ci meraviglierà Che magnifico universo E' veramente bello La luce delle stelle Che brilla da lassù Ci racconterà la gloria E la forza del Signore Quanti nuovi suoni Dai bambini alzatevi Che ora tocca a voi E' tempo di danzare E di cantar con voi Furono sette giorni così meravigliosi Siate felici perché Dio è meraviglioso Tutto ciò che fa Che è buono E tutto ciò che fa Ci meraviglierà Che magnifico universo E' veramente bello La luce delle stelle Che brilla da lassù Ci racconterà la gloria E la forza del Signore E tutto ciò che fa Ci meraviglierà Che magnifico universo E' veramente bello La luce delle stelle Che brilla da lassù Ci racconterà la gloria E la forza del Signore E' buono Tutto ciò che fa E' buono Tutto ciò che fa E' buono Tutto ciò che fa Dio fa cose meravigliose Cari bambini Oggi vi ho raccontato La prima delle tante bellissime storie Contenute nella Bibbia Come avete ascoltato Dio ha creato ogni cosa bella E in modo perfetto Vi capita mai Di fermarvi e guardarvi intorno E ringraziare Dio Per tutto ciò che ha creato Gli animali Il cielo Il mare La natura Tutto il mondo intero E' stato creato da Dio Ma la creatura più importante La più bella in assoluto Avete sentito qual è? E' l'uomo Sì bambini Proprio così Anche io Tony E voi bambini Facciamo parte Della creazione Di Dio E il versetto Che oggi Impareremo insieme Si trova Nel primo libro Della Bibbia Chiamato Genesi Esattamente al capitolo 1 Il verso 31 Che dice Dio vide tutto quello che aveva fatto Ed ecco era molto buono Ripetiamolo insieme Dio vide tutto quello che aveva fatto Ed ecco era molto buono Ciò che Dio ha fatto Per lui è stata una cosa buona E per noi Deve essere anche così E quindi bambini L'invito di oggi è Ringraziare Dio per il creato E soprattutto per la vita Per oggi il nostro tempo a disposizione Finisce qui Vi do appuntamento alla prossima puntata Di Nonno raccontami la Bibbia Vi aspetto Grazie bambini E a presto Ciao 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 Ciao